14 squadre in quest'arena, voglia di spaccare tutto e di sognare. Arriviamo però alla partita con la Bernstein, vinta 1-0. Giocata malissimo però, così non va. Si cambia allenatore, fuori minatti e dentro presa, rimane l'unica certezza, i nostri tifosi. Fine dell'andata, 3 vittorie, 3 pareggi, 8 sconfitte. Gli ultras però sono sempre con noi, soprattutto ora che nulla gira come dovrebbe. Tante infortuni e tante assenze, i pensieri di mollare erano ormai nelle nostre teste. Ma il cuore giallo-verde diceva no, si va avanti. Con il tesino si perde 11-12, non si può non vincere giocando bene, ora basta. Spente le speranze campionato del Pinè. Il Valsugana domina la partita, si può questo e molto altro. Ora possiamo ricambiare tutto il calore dei tifosi con altre 2 vittorie. Il ritorno si chiude con 7 vittorie, 2 pareggi e 5 sconfitte. Si chiude dignitosamente il campionato. Ora si può anche andare a festeggiare. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.